Ma lo sapevi che in Giappone c'è stato un disastro nucleare? No, perché se ne è parlato tanto, ma adesso evidentemente non fa più notizia. Comunque, ieri abbiamo trovato un articolo. Che dice? 80.000 persone sono state evacuate dalle loro case in un raggio di 20 km dalla centrale. Tutto normale, no? Ecco, questo però ci ha colpito. Il governo giapponese ha ammesso di aver sostenuto in passato l'energia atomica e ha deciso di riconoscere alla popolazione lo status di vittime di una politica nazionale. Quindi, per il governo giapponese il nucleare è una colpa. E per quello italiano? Pentitevi! 10 Ave Maria è un atto di dolore!